Non c'è un uomo, non ti lascio. Non sono un uomo, non sono così tiberto. Dove è tuo padrone? Il signor Veselen vi riceverà più tardi. Adesso sta facendo jogging. Il signor Veselen dice che siete venuti nel posto sbagliato. Ovo n'è Crcma. È un vecchio domo di un vecchio. Dice che questa non è un'osteria, ma una onesta casa di un onesto uomo. È vero che lui si chiama Veselen Kabadajic, però non è vero che lui si chiama Veselen Kabadajic, però non è vero che lui si chiama Veselen Kabadajic, però non è vero che lui si chiama Veselen Kabadajic, è vero che è commerciante di tappeti. 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 Io sono un uomo, un businessman. Ho trovato due giornali, due giorni a scrivere. Ho trovato una televisione, una televisione. Ho trovato due fabbriche. Un'azienda, un'azienda e un'azienda. Lui è un serio uomo da fare il serbo. Pubblica tre giornali e due riviste. È proprietario di un canale televisivo e di una radio. Possiede due fabbriche. Possiede due fabbriche, una per l'imbalaggio e l'altra per il trattamento della carne. E' un uomo sensibile e che o la ammazza subito o chiama la polizia. E' un uomo sensibile e che o la ammazza subito o chiama la polizia. Allora... Dio al tuo capo che Santino Genovese non è un minchione. O amici che mi informano per ciò che non mi prende per il culo. Dio che so che quelli del suo governo lo stanno cercando. Che è accusato di crimine organizzato. So cosa ha cambiato durante le guerre balcane. Che so che per lui è stato emanato un mandato di cattura internazionale per crimine di guerra. Traducilo. Che so che hai amici e si trovi sono in onda di srebrenica. Che! Che so che ne puoi stare. Che è un maestro che non mi para, non mi chace. Che e! Che! 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 Così erano i tempi, da una parte poveracci affamati dall'altra mucchi di soldi E che fare adesso? Lasciare i soldi ai poveracci? Ma non sono pazzo E per quanto riguarda la guerra, innanzitutto non è vero E anche se fosse vero, loro ci provocarono, io tacco i miei Tacco i miei Ma no, mamma, se ho ucciso qualcuno, l'ho fatto per caso E comunque per il mio popolo E quando verranno gli stronzi per portarmi a Hague, il mio popolo mi difenderà Questo l'ho stampato in diecimila copie Organizzerò dimostrazioni del popolo Minerò terreno davanti alla casa Minerò me stesso se ci sarà bisogno Io non ho accumulato questa ricchezza per spenderla in galera, è chiaro? Non ho niente Ha a che fare con il tuo tappeto Tu pensi che ho fatto milioni rubando tappeti? Ehi, guarda! Automobili rubate, un milione Società finanziaria ad interessi grandi, due milioni Contrabando di sigarette, tre milioni Divise false, visti scenche falsi Trasporto clandestino di Arabi all'Unione Europea Omer ci ha detto che il nostro tappeto l'ha spedito a te Omer è un bugiardo di merda Io sono commerciante Compro qui, vendo lì Non ho nemmeno aperto il camion di Omer L'ho solo mandato via Via dove? In Montenegro Però io non vi ho detto niente Perché Montenegro, cazzo? Perché dall'altra parte c'è Italia E loro trasportano per nave la merce E fino alla tua Roma Perché ogni merda va a Roma Ecco perché Da qua E qui si bre ti? Caramfil off, trembo fi Caramfil? E li bre, caramfil? A što è toliko bitan taj vasi tepi? Pa, ima jedna baba vanatre Zadili ste babu u tebi? Pa, taka ispadna nekako E mai come, mamma E, 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 e E, e, e E, 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 e Grazie.